Anticipazioni Terra Amara, Gaffur fa una scoperta scioccante che cambierà tutto. Nella nuova puntata di Terra Amara, Gaffur si troverà di fronte a una scoperta ghiacciante che sconvolgerà gli abitanti della villa. Sarà un colpo di scena di quelli che lasceranno il pubblico senza parole, rendendo questo episodio uno dei più intensi e avvincenti della serie. Ci addentreremo in un capitolo destinato a trasformare radicalmente le vite dei nostri amati personaggi, scuotendo le fondamenta della tranquilla Cucurova. Un evento tragico e inagguato, pronto a strapparci il cuore e a immergere la trama in un turbine di emozioni intense. In questo episodio speciale, sveleremo un'anticipazione cruciale che terrà il pubblico con il fiato sospeso. Un protagonista chiave, seguito con fervore e affetto, si troverà coinvolto in un evento drammatico che scatenerà conseguenze risonanti in ogni angolo della storia. Questo colpo di scena inaspettato porterà a rivelazioni sorprendenti, generando un susseguirsi di emozioni che terranno gli spettatori incollati allo schermo. Se vuoi essere il primo a conoscere i dettagli di questo momento cruciale, resta con noi fino alla fine del video. Il destino svela una tragica scoperta, Fekhi rivela l'identità celata del nuovo imprenditore di Chukurova. Mehmet Kara non è chi apparenta essere, ma si tratta del complice di Abdul Qadir ed è il temuto Akan Gumusoglu. Questa rivelazione avrà conseguenze drammatiche per Alira Met, segnando il capitolo conclusivo di questa avvincente serie turca. In questa situazione critica, Abdul Qadir si trova costretto a svelare dettagli sconvolgenti, confessando di essersi legato a Akan come amico e di aver intrapreso insieme attività commerciali. La loro partnership prende una piega negativa quando Akan rivela di essere stato rovinato a causa di Demir. Al suo ritorno a Chukurova, Akan ha un unico obiettivo, distruggere Demir e farlo finire in bancarotta, proprio come è successo a lui. Nel tentativo disperato di proteggersi, Abdul Qadir cerca di manipolare Fekli sostenendo che Akan vuole ucciderlo in vendetta per la morte del fratello Erkan, investito da Fekli con l'auto insieme a Cetin. Tuttavia, anche Alira Met non riesce a frenare la sete di vendetta per la scomparsa di Demir, di cui Fekli sostiene essere opera di Akan. Nonostante la sua promessa di non togliere più la vita a nessuno, Alira Met torna da Abdul Qadir determinato a difendere gli Aman e la sua famiglia, puntandogli la pistola alla testa per scoprire la verità su Mehmet Kara, che nel frattempo si avvicina sempre di più a Zuleya. Mentre Fikret e Cetin si dirigono verso Adana, condividono la preoccupazione che il biglietto di Demir possa essere stato falsificato, suscitando timori ancora più gravi. Nel frattempo, Zuleya, sempre più disillusa, confida a Lutfiye la sua perdita di speranza per il ritrovamento di Demir ancora in vita. Lutfiye, che ha sviluppato un legame profondo con Zuleya, cerca di incoraggiarla come farebbe con una figlia. Nel frattempo, la complicità tra loro cresce, e Lutfiye condivide le sue preoccupazioni riguardo a Fekli, il quale sostiene di essere in viaggio per affari ad Ankara, ma Zuleya sospetta che in realtà sia diretto in Siria alla ricerca dello Yaman scomparso. Determinata a raccogliere informazioni cruciali dal cotonificio, Zuleya è decisa a confermare che Fekli non si è recato ad Ankara, anche se le sue tracce sembrano svanire nel nulla. Poco dopo il loro ritorno ad Adana, Fikret e Cetin, preoccupati e disperati, decidono di rivolgersi al procuratore per chiedere aiuto nella ricerca di Demir. Tuttavia, le speranze vengono infrante quando ricevono un rifiuto categorico, scatenando l'ira di Fikret che perde completamente la calma e attacca fisicamente il procuratore. La situazione precipita rapidamente, portando all'arresto di Fikret e Cetin. Prima di continuare, se il video è di tuo gradimento, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Un semplice gesto che a te non costa nulla, ma che ti assicurerà di ricevere nuovi video di Terra Amara in anteprima, e per noi, un grande sostegno. Grazie. Nel frattempo, Fekli, deciso a trovare Akan, si imbatte nella notizia che questi si trova nella camera dell'industria. Senza esitazione, Fekli si dirige verso quella direzione con l'intenzione di affrontare Akan. Tuttavia, il destino prende una piega inaspettata quando durante il tragitto, un giovane nel bel mezzo della corsa si avvicina a Fekli chiedendo aiuto, sostenendo che sua madre è gravemente malata e ha bisogno del suo intervento. Si tratta però di una trappola, astutamente orchestrata per far scendere Fekli dall'auto. Così, il braccio destro di Abdul Qadir sorprende Fekli alle spalle, iniettandogli nel collo una sostanza che fa smettere di battere il suo fragile cuore, facendolo collassare. Con freddezza, l'aggressore carica il corpo di Fekli nella sua auto con l'intenzione di far credere che abbia subito un infarto. Mentre è alla guida, contatta il suo capo, Abdul Qadir, per informarlo che la missione è stata completata con successo. Zuleya, ignara di tutto e ancora alle prese, non senza poche difficoltà, alla riunione d'affari nel prestigioso club organizzato dalla Camera dell'Industria, dove si trova anche Akan. Il fascinoso uomo d'affari, incapace di nascondere i suoi sentimenti per Zuleya, la osserva intensamente per quasi tutta la serata. La tensione è palpabile mentre la riunione si svolge, e alla fine della serata Zuleya, ignara di quanto accaduto, ringrazia tutti per aver condiviso quel momento straordinario, augurandosi che abbiano apprezzato il suo contributo. Questa è una svolta epica in terra amara. La perdita di uno dei protagonisti più amati sconvolge profondamente la vita delle persone di Chukurova, lasciando un vuoto difficile da colmare. L'evento tragico lascerà un vuoto insostituibile nella trama, anche nei cuori degli spettatori, ma una cosa è certa, la lotta per la verità e la giustizia è appena iniziata, e le emozioni e le tensioni continueranno a crescere. La notizia è sconvolgente e cambierà il corso della celebre soppopera turca terra amara nella quarta stagione. L'evento tragico scuoterà le fondamenta della trama. La morte di Alira Met Fekli è un evento devastante orchestrato da un complice nascosto di Abdul Qadir Ruskin, utilizzando una siringa avvelenata, lasciando tutti i personaggi e gli spettatori in uno stato di shock e indignazione. Alira Met Fekli, purtroppo, non avrà l'opportunità di avvertire Zuleya, la donna attualmente al centro dell'attenzione, riguardo alla vera natura di Mehmet Kara. Questo segreto rimarrà celato, rendendo Zuleya e la famiglia Yaman vulnerabili a pericoli imminenti. La scomparsa di Alira Met Fekli avrà un impatto enorme, innescando una serie di eventi imprevisti che cambieranno il destino dei personaggi. La tensione aumenterà mentre Mehmet Kara diventa sempre più una minaccia palpabile. Nuove rivelazioni continueranno a tenere gli spettatori sul filo del rasoio in questo momento di fragilità. Mehmet Kara entrerà nella vita di Zuleya come un enigma avvolto in un fascino ingannevole. Zuleya, ignara delle vere intenzioni di Mehmet, si avvicinerà a lui in cerca di sostegno. Tuttavia, quando la verità su Mehmet, il cui vero nome è Akangu Musoglu, verrà svelata, le conseguenze saranno devastanti. La rivelazione dell'identità di Mehmet grazie ad Alira Met Fekli avrà un impatto profondo sulla trama, scatenando una catena di eventi che cambieranno il corso della storia. Abdul Kadir, il complice di Akan, rivelerà dettagli che aggiungeranno ulteriori strati di complessità alla trama. Nuovo colpo di scena nella soppopera Turca Terra Amara, Gaffur fa una scoperta scioccante che lascerà gli abitanti della villa distrutti. La messa in onda pomeridiana di Terra Amara continua con grande successo, e le anticipazioni promettono nuovi drammi che coinvolgeranno i personaggi della serie, cambiando il corso del finale di stagione. Dopo la sparizione di Demir, che purtroppo si scoprirà essere morto, un altro protagonista lascia la serie. Si tratta di Fekli, che verrà ucciso dagli uomini di Abdul Kadir su ordine di Akangu Musoglu. Nei prossimi episodi, Gaffur e Rashid troveranno il corpo di Fekli nella sua macchina. La sua morte verrà archiviata come causata da un infarto, ma la verità sarà un'altra. A uccidere l'uomo sarà stato Mehmet Kara, alias Akangu Musoglu, che si presenterà in paese sotto falso nome. Un nuovo dramma si abbatte su Chukurova. Purtroppo Fekli verrà trovato privo di vita e dalle indagini si scoprirà che la sua morte non sarà per cause naturali. Mehmet Kara, il nuovo arrivato, ha come obiettivo quello di impossessarsi di tutte le terre degli Aman, e per farlo sarà disposto a tutto. Le anticipazioni rivelano che Fekli verrà a conoscenza della vera identità dell'uomo e scoprirà che si tratta di Akang. Purtroppo, il perfido Abdul Kadir, socio in affari di Kara, scoprirà presto che Fekli sta indagando su di lui. Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Fekli verrà fermato da due complici di Abdul Kadir, i quali gli faranno credere che una donna si sia sentita male in macchina. Tuttavia, si tratta di una trappola per ucciderlo, iniettandogli un veleno, lo lasceranno a terra privo di vita. Gaffur e Rashid saranno coloro che troveranno il suo corpo senza vita. Nella villa, tutti saranno distrutti dalla morte di Fekli, ma inizialmente nessuno saprà che si tratta di un omicidio. La generosità di Fekli lo porterà purtroppo alla morte, dopo aver continuato a prendersi cura di Zuleya e aver cercato di proteggerla quando ha intuito che la donna fosse in pericolo. La sua scomparsa lascerà un vuoto significativo nella trama, causando dolore e disperazione tra i personaggi e gli spettatori. Che ne sarà di Zuleya ora che è sola e molto vicina a Mehmet Kara, l'assassino di Fekli e Demir. Se vuoi saperlo, scrivilo nei commenti e faremo un nuovo video. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale. Grazie.